Luciano Dolce delle Fucine Rostagno, ieri al trofeo ISAC, un secondo posto che è come una vittoria? È stata veramente come una vittoria, abbiamo trovato una giornata magnifica, tutti e quattro i componenti della squadra, abbiamo giocato benissimo, fino alla fine già siamo giocati. Il fatto di battere una squadra in semifinale composta dai due grivetto più da scassa e grosso è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per voi? Un motivo di grande soddisfazione è l'appoggio di tutto il pubblico. Un'organizzazione molto bella, un trofeo organizzato dall'ISA che è veramente ben riuscito. Un trofeo perfetto, grandi nomi, grandi giocatori, è tutto ben riuscito. In finale Luciano si poteva fare qualcosa di più o il Castellamonte è stato superiore? È stato superiore, ci siamo giocati fino in fondo e vincere il migliore, è andata così. Rivara ti porta bene, qualche settimana fa avevi vinto il Memorial Ben, adesso sei arrivato secondo a questo trofeo ISAC, direi che quei campi ti si addicono. Sono i campi dove giocano naturalmente sempre e va bene così, dai.